Buongiorno a tutti quanti, questa giornata splendida, splendida giornata Sabato 29 ottobre 2022 E fa ancora caldo Scopriamo insieme quanti gradi ci sono fuori Ci sono 29 gradi, 29 gradi signore e signori Alle ore 16.55 Più fa caldo e meglio è Ci sentiamo questa sera Buona giornata a tutti quanti, ciao a tutti